anche questo video come l'altro mio e quello di molti altri fa parte della serie dedicata alla lentezza della luce organizzata dallo studio campo bohario in questo anno 2020 il nostro corso gratuito www.mesmerism.info alcuni appunti soltanto per dire che il discorso non è mai stato tanto per me quello della luce sua lentezza o velocità quanto quello dell'ombra in effetti e della conseguente difficoltà di reperire l'immediato se con la luce vogliamo dare un significato metaforico di immediatezza ciò che è illuminato e ciò che immediatamente è comunque mai troppo immediatamente visibile decifrabile e percettibile visibile e percettibile e decifrabile a parte un periodo piuttosto breve se vogliamo adolescenziale anche in cui l'intenzione mia tutto sommato era quella di misurarmi con un'idea di punti di luce cioè momenti di emersione del senso quasi che dovesse in qualche maniera incarnare con un altro linguaggio il discorso sulle epifanie per tutto il periodo successivo quello chiamiamolo così della motorità cosa che si può tranquillamente nominare alla non giovanissima mia età tutta la fase successiva è stata improntata un discorso legato invece alla esperienza estetica ammesso che ci sia qualcosa che non sia estetica tutto è a istesis percezione quindi estetica e in questo in questo senso la mia difesa dell'ombra la difesa di quanto di un obratio cioè nella scrittura e di non detto è stato sempre prevalente rispetto all'idea stessa di un avanzare o progredire lento o veloce che sia della luce lentezza e velocità sono sempre stati senz'altro dei punti per me cardine nella nella scrittura pensiamo soltanto al capitolo sulla rapidità nelle sei lezioni americane di calvino ma nello stesso tempo con una banale citazione ammorbata sicuramente ancora dagli furori adolescenziali romantici e l'invocazione di novalis alla notte all'insofferenza per il fatto che debba finire a governare tutta la parte più recente di scrittura tanto da parlare nel caso appunto della dei miei primi scritti pubblicati dietro barcluse quindi una scrittura chiusa una scrittura che si scolla che si stacca che perde pezzi e che non viene i cui pezzi non vengono sostituiti da nulla fino ad arrivare all'esperimento delle ossidiane molto recente che probabilmente verrà pubblicato se se sarà possibile di qui a qualche mese forse anno anche un progetto che nasce nel 2001 e che ha per centro precisamente il non detto il non dicibile e il non inquadrabile in in discorso alcuno come da l'alto area queste mie esperienze di frammentazione possono essere anche disturbanti in alcuni casi ma sono esattamente ciò che c'è da dire mio avviso ed è esattamente contro molte altre modalità di scrittura che il mio appunto lavoro senza attaccarlo frontalmente si è mosso in questi ultimi anni non parlerei quindi di una lentezza di una qualche essenza della luce ma di una assenza della luce della quale d'altro canto si è fatta esperienza abbondante nel corso del novecento e che va rimodulata in modo nuovo in questi anni ultimi mi sembra che molti lo abbiano sperimentato e dimostrato sia in arte contemporanea che in quei versanti della scrittura contemporanea che meno distanti si sentono e sono dall'arte appunto contemporanea io spero che queste di queste parti staccate e dissipate e frammentate di ciò che sto dicendo poter possano in qualche modo da un altro canto non si può che pensare può essere piuttosto che un senso punto non fa il suo intero mai nella sua complezza e complicità e quindi di fatto io non veramente non puro lavorare nella direzione che ho sentito di dare e indicare in questa in questa serie di osservazioni adesso l'impiccato alle mie spalle continuerà il discorso come potrete vedere c'è sezione che riguarda qualcosa di fondamentale qualcosa che credo cambierà anche l'assetto della l'atteggiamento di molte persone nei miei confronti devo dirlo devo assolutamente dirlo devo dire che altrimenti non posso essere visto in una maniera fuggitata segmentata sì e indicare le possibili conseguenze di una indifferenza dell'indifferenza che si può dire a tanto tempo ormai non posso che dare la precedenza